L'Agnese è un'opera davvero divertente ed è stata un'ottima intuizione quella di riproporla ad uno spettatore contemporaneo dopo oltre 150 anni che non veniva messa in scena e racconta la storia di questa giovane donna che dopo sette anni decide di ritornare a casa. In questi sette anni lei ha vissuto un amore con una persona che l'ha fatta molto soffrire con il quale ci ha fatto anche una bambina ma decide di abbandonare tutto per ritornare dal padre ma non sa che il padre nel frattempo è diventato matto per il dolore di essere abbandonato da questa giovane figlia e insieme ai medici del manicomi in cui quest'uomo era inchiuso decidono di architettare uno shock che possa trovare in modo di farlo rinsalire, di restituirgli la memoria. Sembra davvero di stare nel film Goodbye Lenin e come tutte le opere di quel periodo c'è un lieto fine che non vi svegliamo ma che davvero restituisce la bellezza e la magia del teatro.